Ciao a tutti amici dal doc eccoci qua allora la nazionale ieri sera contro la svizzera ci ha degnato di una prestazione così eccezionale che come dire mi ha fatto venire voglia di fare un un audio podcast perché io vi dico una prestazione così di m devo dire è così indegna non l'ho mai vista in tanti anni che come dire alcuni di voi lo sanno come come dire come sia comunque appassionato di calcio e come lo seguo non magari non in maniera come dire molto costante però lo seguo e alcuni sanno della mia passione per i colori rossoneri ma questo è un altro discorso e quindi niente quindi a fronte di una davvero di una debacle clamoroso agli europei con una penso la peggiore squadra degli ultimi 50 anni andiamo andiamo a vedere in realtà focalizziamoci invece sul tema del dottore dei computer motivo per il quale mi seguite sempre con tanta passione gioia allora ho fatto in queste due o tre settimane più o meno tanti articoli su facebook e anche su instagram e soprattutto su whatsapp dove vi invito a seguirmi il link è impossibile da dire cioè si è complicatissimo voi andate sul dottore dei computer punto it in alto in altro c'è l'iconcina di whatsapp la cliccate fate iscrivervi iscrivete mi sarete dentro il mio canale dove propongo tante cose tra cui anche dei simpatici sondaggi che a volte fanno emergere cose molto interessanti in particolare in queste due settimane mi sono focalizzato su un tema cioè il modem va sempre tenuto acceso e in realtà questa domanda mi ha dato lo spunto per parlare di varie cose varie cose che tra poco vi andrò a sviscerare cercherò di stare dentro i 10 15 minuti così vi condivido con voi un po di informazioni e intanto quella mentre vi vi spiego vi racconto magari vi aggiungo anche qualche parere extra tantissimi di voi mi hanno commentato le varie cose che scrivevo come dire elencandomi anche le cose che loro facevano a fronte di alcuni miei consigli quindi poi ho di conseguenza a volte vado a modificare l'articolo se ci fate caso per i più assidui l'articolo che pubblico sul dottore dei computer dopo un po di giorni così ogni tanto lo vado a modificare lo vado ad aggiornare e quindi a volte come dire la versione definitiva a volte ci metto anche una decina di giorni al fatto che come dire si sia pronta l'uso detto ciò detto ciò il modem va sempre tenuto acceso punto di domanda questo me lo me l'ha chiesto francesco nella mia pagina facebook del dottore dei computer e francesco mi diceva il modem di casa lo lascio sempre acceso oppure qualche volta è meglio spegnerlo ho sentito pareri contrastanti in merito e allora mi sono buttato a capofitto su questo quesito la risposta unica non c'è ovvero dipende dalle vostre esigenze specifiche ovviamente questo non vuol dire che poi dalle vostre esigenze specifiche punto saluti e baci paga la multa e taci no perché vado poi a sviscerarvi a seconda del caso per caso cos'è meglio fare così poi voi stessi potete valutare cos'è meglio fare perché ci sono degli aspetti che possono riguardare la sicurezza informatica cioè la protezione degli attacchi che arrivano dall'esterno un discorso di risparmio energetico oppure anche altre valutazioni che hanno a che fare ad esempio col fatto che dovete utilizzare il modem per dei collegamenti da remoto e quindi il suo spegnimento impedirebbe ad esempio la possibilità di vedere le telecamere di sorveglianza domestica se ce le avete o utilizzare il telefono fisso cose che tantissimi di voi mi hanno segnalato mi avete scritto di continuo nei commenti ma se spengo il modem non va il telefono fisso purtroppo sì per chi utilizza come dire i telefoni non quelli vecchi analogici quelli vecchio vecchio stampo di quelli che si ruotavano con come dire ecco col dito in senso orario per comporre il numero sì sicuramente quelli nuovi voip certamente c'è il problema che senza internet non va un tubo quindi spegnere il modem per proteggersi da attacchi informatici esterni come dire non è una cosa del tutto fondata perché la possibilità di ricevere attacchi informatici è principalmente legata ai comportamenti rischiosi che possiamo adottare quando ci colleghiamo a internet ovviamente ci colleghiamo a internet col modem acceso ad esempio se andate su siti non sicuri su siti che sono stati attaccati quindi siti sicuri ma sono stati attaccati quindi di fatto sono diventati insicuri scaricate avviate file infetti avete una connessione non impostata correttamente con alcuni criteri di sicurezza sono tutte situazioni di vulnerabilità quindi se voi spegnete il modem sì certamente avete una protezione temporanea in quanto i vostri dispositivi sono connessi dalla rete internet ma comunque non affronta le vulnerabilità interne del sistema o causate dai nostri malsani comportamenti è come che voi chiudete non so chiudate la porta di casa per evitare i furti ma lasciate le finestre aperte e non avete neanche un sistema di allarme quindi si può esserci una sensazione di sicurezza ma non risolve le vulnerabilità che avete quindi senza una connessione di internet attiva un hacker può comunque non può comunicare in tempo reale col dispositivo che vi desidera attaccare tuttavia nel momento che riaccendete il modem se siete stati colpiti da un malware come ad esempio uno spyware cioè sono praticamente quelle applicazioni malevole che inviano le vostre attività a distanza al criminale di turno nel momento che voi attaccate attaccate attivate internet il criminale riprenderà a raccogliere tutti i dati che nel frattempo si erano accumulati nel computer quindi alla fine sarebbe bello se spegnendo il modem tutti i malware e tutto quanto si debellasse ma purtroppo non è assolutamente così vai anche considerato che disconnettersi da internet quindi spegnere il modem poi dopo riaccenderlo e così può essere visto più come una seccatura che una soluzione efficace quindi se lo guardate nell'attico dell'ottica della sicurezza concentratevi sul mettere in sicurezza i vostri dispositivi e sull'utilizzare internet in maniera consapevole ad esempio nelle aziende internet in buona parte cioè solitamente è sempre attivo cioè se vi presentate alle due di notte per assurdo per lavorare in ufficio probabilmente internet vi starà andando questo per dirvi che comunque anche nelle aziende che sono probabilmente più come dire più critiche da attaccare rispetto a un utente normale i criminali hanno più l'interesse ad attaccare un'azienda come dire hanno comunque internet attivo costantemente quindi per farvi sensibilizzare sul fatto che è opportuno avere robuste misure di sicurezza quindi sì spegnere il modem sì magari può ridurre un pochino la finestra di opportunità per gli attacchi esterni certamente quelli in tempo reale ma non è la misura di sicurezza principale quindi ad esempio mettete sempre in sicurezza il modem con dei firewall attivi tenendo sempre aggiornato il firmware del modem usando password complesse per accedere alla rete usando la crittografia vpa3 e se non disponibile vpa2 la web evitatela nella maniera più assoluta se la state usando rimuovetela rimuovetela e fate anche un controllo regolare dei dispositivi che risultano connessi alla vostra rete domestica e dovete anche considerare come vi dicevo prima che se spegnete il modem non vi va più solitamente il telefono fisso e l'impianto di videosorveglianza e quindi come dire essendo la connettività per questi servizi un requisito essenziale va tenuto va tenuto conto per quello che riguarda gli impianti di videosorveglianza se hanno un registratore dvr nvr la connessione internet non è indispensabile però se volete monitorare in tempo reale la situazione da remoto ovviamente se tenete il modem spento non potete farlo poi ci sono anche tutte quelle abitazioni moderne nuove di pacca che hanno tutti dei sistemi di domotica tipo quelli che tirano su e giù le tende non so l'impianto di riscaldamento di raffreddamento queste cose qua quindi se gli tirate giù se tirate giù il modem non va più un tubo quindi come dirvi fate sempre le giuste valutazioni prima di spegnere il modem vi ho dato come dire un'infarinatura da questo punto di vista tra l'altro giusto un'altra cosa alcuni modem di notte ricevono gli aggiornamenti automatici che migliorano la stabilità e le prestazioni della connessione quindi se li tenete spenti può essere che non si aggiornino potete come dire anche fare in modo che questi aggiornamenti possano essere installati magari successivamente in maniera manuale però lì dovete accedere al menu del modem e darci un attimo un'occhiata e vi dico anche un piccolo trucco che non vale per tutti i modem ci sono dei modem che sono impostati in maniera fissa per avere gli aggiornamenti in orari notturni se per varie ragioni desiderate che questi aggiornamenti avvengano di giorno il trucco è quello di cambiare il fuso orario del modem ovviamente se questa opzione è disponibile il che non è così scontato ho fatto anche un controllo per quello che riguarda il risparmio proprio in termini di bolletta elettrica che si avrebbe nel tenere spento il modem e mi sono affidato a un sito comunque se andate sul dottore dei computer punto it cercate l'articolo il modem va spento e ho messo il link dell'articolo dove ho preso spunto e ho fatto dei conti se spegnete il modem 8 ore di notte tutti i giorni indicativamente indicativamente risparmiati in bolletta 60 centesimi di euro al mese quindi 0,60 euro al mese se lo tenete spento 8 ore a notte a mio avviso una cifra come dire molto molto scarsa molto bassa è anche vero che come dire in un anno sono 7 8 euro circa sono 8 euro direi più o meno sì quindi non penso che cambi particolarmente le sorti però sappiate che c'è questo minuscolo super minuscolo risparmio economico e però e però forse non si dice va anche considerato che spegnere e riaccendere il modem si è vero lo ve lo spegnete risparmiate 60 centesimi al mese ma potrebbe avere effetti nascosti avere nascosti effetti costosi da considerare infatti se voi frequentemente spegnete e riaccendete il modem si potrebbero creare dei guasti nei componenti elettronici al suo interno e quindi questo riduce la sua durata nel tempo infatti i componenti del modem sono fatti per funzionare 24 ore al giorno quindi come dire non sono programmati per gestire bruschi cambiamenti di corrente e di temperatura quindi se spegnete di brutto e di continuo c'è il serio rischio di mandarlo fuori uso e quindi tanti cari saluti agli eventuali 8 euro al mese di tra virgolette scusate 60 centesimi al mese di risparmio perché come dire il modem poi dopo è costoso anche se come dire spesso è una cifra 1 0 se non se non ne prendete uno di un certo livello però poi va programmato serve un po di tempo per mettersi lì farlo andare a volte quindi sì a volte un po una seccatura e poi inoltre i modem non hanno tutti il tasso di spegnimento quindi a volte bisogna scollegarlo direttamente come dire togliendogli il cavo elettrico e quindi se lo fate frequentemente non è non è sicuramente la scelta migliore la scelta di lasciare acceso o spegnere il modem di casa come dire deve tenere conto delle vostre specifiche esigenze relativa alla sicurezza risparmio energetico e alla continuità di erogazione dei servizi che utilizzano la connettività dal mio punto di vista al volo sarei per dirvi lasciatelo sempre acceso però è un consiglio volante che non tiene conto come dire di alcune indicazioni che comunque vi ho dato in questa puntata del podcast quindi carissimi fatemi sapere se vi va nei commenti su facebook su via mail info chiocce dal dottore dei computer punto it e così fatemi pure sapere le vostre se vi va iscrivetevi al mio canale whatsapp mi sto divertendo pubblicare dei sondaggi molto carini che mi aiutano anche un attimo a capire voi come utilizzate la tecnologia statemi bene e niente mi raccomando ricordatevelo sempre al top con il doc